Siamo a Santa Maria degli Angeli, presso la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, nel cosiddetto santuario della Porziuncola, il santuario del perdono, per una mostra dedicata alla Vergine Maria, intitolata Virgo Ecclesia Facta, dedicata in particolar modo al significato dei santuari mariani. Quando incontriamo un santuario, incontriamo sempre una memoria e il modo in cui questa memoria è stata rappresentata. Perciò in questa prima sezione, in modo molto didattico, verrà sviluppato il significato e proprio il senso dei santuari mariani e particolarmente evidenziato il santuario di Guadalupe, quella che è la prima apparizione riconosciuta dalla Chiesa Cattolica della Vergine Maria. La seconda sezione della mostra è dedicata soprattutto al tema iconografico della Vergine Maria, qui alla Porziuncola, il santuario del perdono. Questa mostra cerca di illustrare questo numero così frequente di immagini e di testimoniare tutto l'amore francescano per la Vergine Maria, in particolar modo per San Francesco, e la centralità che ha il ruolo della Vergine all'origine del carisma e dell'ordine francescano di San Francesco stesso. La mostra rimarrà aperta fino ad ottobre, il mese in cui il Santo Padre si rireccherà con le delegazioni di tutte le religioni, qui ad Assisi, per il ricordo del venticinquesimo del dialogo con le religioni e per il messaggio per la pace e per il mondo.